Quel matto di Maurice. Già, potrebbe essere un'idea. Le tonti io sto proprio pensando. È pericoloso. Lo so, ma quel vecchio è il padre di Belle. È normale, non è neanche un po'. C'è un'idea che mi sta ronzando dall'istante in cui il vecchio era qua. Tu lo sai che io voglio sposare sua figlia ed un piano in mente ho già. Se io... Sì. Allora noi. E tu credi che lei lo farà? Certo. Sei un genio, Gaston. Forza, andiamo. Come imbroglia, Gaston. Che canaglia, Gaston. Tutto quello che vuole in garbuglia, Gaston. Questo celebriamo il suo matrimonio Che uomo sei, Gaston.